La palestra dimenticata è un bellissimo esempio di come delle persone che hanno una passione in comune possono costruire qualcosa che vada a beneficio della comunità e di molte persone. Ci troviamo a San Lorenzo d'Orsino ai piedi delle Dolomiti di Brenta. Agli inizi degli anni 90 questa palestra è stata per così dire abbandonata ma nel 2016 e poi nel 2017 grazie a un'operazione di crowdfunding a cui hanno partecipato più di 400 persone questo luogo è tornato a vivere. È stata un'idea all'avanguardia perché non c'è un precedente di un'iniziativa sino di un crowdfunding per riacquistare una palesia che era stata chiusa insomma. In questi ultimi anni abbiamo notato come il successo della palesia comporti un'alta frequentazione da parte di arrampicatori ma non solo anche di persone che decidono di trascorrere qualche ora in tranquillità. Abbiamo deciso quindi di lanciare una campagna di crowdfunding, un secondo crowdfunding per ampliare il numero dei tiri arrampicabili. Se anche tu credi nella nostra idea nel nostro progetto e ci vuoi aiutare puoi andare sul sito www.eppela.com e cercare la falesia dimenticata 2.0. Ad ogni donazione corrisponderà una ricompensa che è gentilmente messa a disposizione da parte dei nostri sponsor. Il valore della falesia dimenticata è quella di essere un bene comune condiviso. Ti chiediamo di essere parte di questo progetto e di dare il tuo contributo per far sì che la falesia dimenticata diventi ancora più grande per avere un luogo di aggregazione che va oltre l'arrampicata.